buongiorno a tutti bentornati sul canale intanto buon anno a tutti buon 2024 oggi è il 4 di gennaio e sto registrando questo video nel rimessaggio dove tengo il camper purtroppo in questo periodo non mi sono potuto muovere perché sto aspettando ancora il montaggio delle gomme invernali e me le dovrebbero montare la settimana prossima e quindi dalla settimana prossima insomma speriamo di poter ricominciare a viaggiare sempre al mese di gennaio dovrebbero installarmi finalmente il riscaldatore a gasolio e quindi un altro grande miglioramento per il nino comunque il video di oggi allora ho deciso approfittando appunto di questa pausa forzata di portarvi sul canale il camper tour un po il video che portano più o meno tutti quanti sui canali il mitico video tappabuchi non l'ho mai fatto perché più di tanto insomma non mi sembrava così tanto interessante però ho visto che più o meno tutti quanti lo portano e quindi ho deciso di farlo anche io vediamo come viene fuori e cominciamo da dove cominciamo cominciamo come al solito più o meno come fanno tutti dall'esterno quindi il nino è un fiat ducato del 2000 è un 2008 turbo diesel e attualmente con 98 mila chilometri all'attivo la cellula invece è dell'adria è lungo 5 metri 97 adesso magari ci spostiamo di là e vi faccio vedere un pochettino bene 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 allora il nino ha solo di base un gavone che è questo gavone laterale abbastanza piccolino effettivamente vedremo poi che il vecchio proprietario ha aggiunto un gavone sul fondo appunto per aumentare la possibilità di stivaggio perché altrimenti con questo qui si carica veramente molto poco qui poi abbiamo la classica presa della corrente da esterno che io effettivamente uso abbastanza poco poi qui abbiamo la presa esterna del gas quindi è possibile attaccare per esempio un forniletto o qualcosa del genere e stessa cosa qui la presa per l'acqua quindi è possibile farsi la doccia fuori acqua calda e anche acqua fredda chiudiamo poi anche la parte la parte sinistra per quanto riguarda la parte esterna del nino qui abbiamo lo spazio per le bombole del gas io uso le bifin le bombole quelle in vetro resina perché le trovo più comode sia per quanto riguarda il peso sia per quanto riguarda la possibilità di vedere il livello del gas all'interno che secondo me è molto comodo e in più non non essendo in ferro non fanno ruggine quindi insomma le trovo più più pratiche qui abbiamo poi dove si carica l'acqua qui abbiamo la stufa e qui abbiamo la cassetta del water bene detto questo direi che anche per la parte esterna è tutto direi basta qui poi c'è il frigo ma queste cose magari le vediamo all'interno così c'è anche meno confusione perché c'è un casino di traffico bene allora detto questo io direi che possiamo entrare e facciamo l'operazione inversa che facciamo di solito di solito avete sempre visto l'apertura dall'interno all'esterno stavolta facciamo dall'esterno all'interno gradino elettrico tanta roba e andiamo bene 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 entriamo ed eccoci qua a bordo del nino allora adesso magari vi piazzo da qualche parte così vediamo di fare una cosa fatta un po bene allora come potete vedere qui abbiamo la dinette si può sedere in quattro e qui abbiamo il magnifico divanetto per fare un po effetto lounge bar qui abbiamo il frigo poi magari parliamo anche un attimino del frigo nella parte posteriore abbiamo la cucina poi ve la faccio magari vedere nel dettaglio qui abbiamo il bagno qui abbiamo l'armadio e qui abbiamo la stufa ecco questo magari come piccola visione generale adesso magari vi prendo e andiamo nel dettaglio il camper è omologato per sei posti viaggianti quindi tutti i quattro posti in dinette possono essere usati in viaggio e cinque posti letto noi in realtà siamo arrivati ad usarne quattro cinque insomma si sta abbastanza stretti in cinque allora viene te l'ho fatta vedere il tavolo ovviamente come al solito si alza e quindi è possibile abbassare e far diventare questo diciamo una piazza e mezzo qui si dorme tranquillamente in una persona io spesso d'inverno se sono da solo preferisco dormire sul divanetto perché si sta un pochettino più caldini mentre qui sopra abbiamo la mansarda molto grande ecco qua io uso questo meraviglioso sacco a pelo che è fantastico perché vi faccio vedere eccolo qua veramente fantastico come sacco a pelo si sta benissimo senza lenzuola invernale di seguito che sono un po' scomode qui abbiamo un oblò che si ecco qua lo apriamo così facciamo passare anche un po' di aria benissimo qui abbiamo un altro oblò con anche il turbo vent che onestamente uso pochissimo ma insomma c'è eccolo qua qui abbiamo il frigo a compressore dell'indel b grande veramente molto molto grande perché sono 130 litri di frigo comodissimo un'altra cosa importante per quanto riguarda il passaggio al frigo compressore è che normalmente con il frigo trivalente quando si deve partire bisogna collegare il frigo alla 220 almeno un 12 ore prima di partire parliamo principalmente ovviamente dell'estate e per poter fare raffreddare il frigo appunto prima della partenza io purtroppo non avevo questa possibilità perché abito in città e quindi non avevo fisicamente la possibilità da casa di lanciare un cavo della corrente lungo 50 metri e collegarlo al camper per poter raffreddare il frigo prima della partenza appunto come normalmente si fa in questi casi il frigo compressore mi ha risolto anche questo problema perché cosa faccio io il giorno prima della partenza ho il camper appunto in un parcheggio vicino a casa alla sera del giorno prima insomma al pomeriggio insomma rispetto all'ora della partenza vado in camper accendo il frigo a manetta il frigo con i suoi pannelletti fa il suo lavoro e io quando parto ho il frigo ghiacciatissimo freddissimo perché veramente poi questo frigo fa veramente molto molto freddo mi trovo veramente molto bene ecco quindi il frigo a compressore mi ha risolto anche questo problema che sembra di per sé una cosa così però per il primo anno e mezzo ci siamo sempre mossi con il frigo spento perché non mi sono mai fidato di lasciare acceso il camper insomma incostudito di notte con il frigo a gas e quindi insomma per una questione un po' mia personale siamo sempre partiti prima di avere il frigo a compressore con il frigo caldo e di conseguenza insomma una bella una bella rottura per quanto riguarda l'impianto adesso salto veramente di palo in frasca ma allora il Nino monta due pannelli black solar dell'NDS da 165 watt ciascuno e ho due batterie servizi una sotto al sedile del passeggero e l'altra di fianco nel piccolo gavoncino sono due batterie da 110 ampere e diciamo con questo impianto faccio tranquillamente andare il frigorifero in estate senza assolutamente problemi il frigo è stato veramente un po' un game changer per me perché il Nino montava ancora il suo trivalente originale che per via dell'età era abbastanza era abbastanza esausto quindi in estate se fuori c'erano tipo 40 gradi in frigo ce n'erano 30 quindi praticamente se mi mettevo la roba fuori era praticamente uguale forse era anche meglio qui abbiamo visto che siamo qui il pannello originale dell'Adria dove possiamo controllare ovviamente batteria motore, batteria servizi, acqua che oltretutto devo scaricare perché ho ancora mezza tannica di acqua da ottobre le grigie che sono vuote poi qui abbiamo ovviamente la pompa dell'acqua che è spenta e l'accensione della corrente a 12 volt per quanto riguarda le tanniche il Nino nasce con un serbatoio di acque chiare da 80 litri e un serbatoio di acque grigie da 110 facendo insomma un po' di attenzione ai consumi d'acqua io con 80 litri boh ci faccio 4 giorni tranquillamente ovviamente bisogna stare attenti quando si lava i piatti, si fa la doccia insomma ma comunque 4 giorni riesco a farli cos'altro? Allora passiamo alla parte dietro vediamo la cucina cucina molto bella secondo me qui abbiamo il lavandino con questo appoggiatutto che è meraviglioso mi permette di avere un punto d'appoggio per quando si cucina e vi di seguito qui abbiamo i fuochi, ecco qua abbiamo 3 fuochi a gas con anche l'accensione elettrica tanta roba, molto lusso per i tempi ecco qua ecco sempre per quanto riguarda la parte della cucina poi abbiamo i vari cassettoni, delle pentole, delle posate abbiamo parecchio stivaggio anche qui adesso come vi dicevo è praticamente quasi tutto vuoto ma insomma c'è di spazio per mettere la roba tantissima ecco le luci a led le ho cambiate io oltre all'installazione ovviamente delle prese usb ecco qui di fianco abbiamo appunto due prese molto utili ovviamente perché così carichiamo telefoni e via di seguito anche le luci a led appunto le ho sostituite io anche perché sto camper è pieno di luci anche come luci ho sostituito le originali qui sul soffitto perché erano veramente bruttissime ho installato queste due luci prese sull'amazon dell'internet secondo me sono veramente molto belle questa è tutta la parte di stivaggio ma adesso in questo momento è praticamente tutto vuoto perché appunto sono un paio di un mese e mezzo che non andiamo via quindi praticamente è tutto vuoto passiamo adesso va bene all'ultima parte quindi in realtà poi quando avrò finito questo video devo mettere giù la moquette che ho fatto così magari vi faccio vedere anche quella ho fatto la moquette l'anno scorso usando una moquette molto molto sottile tipo 4 mm neanche 4 mm però sotto ho fatto tutto un fondo di sughero di un metro centimetro ed è veramente incredibile io ve lo consiglio per chi è a camper appunto come il mio un po' vecchi che quindi non hanno il doppio pavimento è veramente molto utile perché altrimenti vi ghiacciate qui poi abbiamo il nostro bell'armadio è molto molto spazioso ci sta un botto di roba ma è l'armadio insomma ci sia tanto qui sotto abbiamo invece la stufa ecco qua della truma con tutte le sue bocchette qui abbiamo vedete il controller ecco qui in questo momento ovviamente è tutto speso è spento scusate però abbiamo le bocchettine eccole qui ed eccole lì e via di seguito ecco un'altra cosa che non ho detto il nino monta anche il bebasto motore quindi abbiamo il riscaldatore per il motore che serve appunto per riscaldarlo prima di partire specialmente se si è in montagna cose del genere una cosa che è sempre stata fatta dal vecchio proprietario e di questo io lo ringrazio praticamente è stata messa vi faccio vedere qui sotto alla dinette abbiamo questo gigantesco ventolone che porta calore quando il bebasto motore è acceso quindi se io accendo il bebasto motore e lo ascio acceso una decina di minuti posso poi accendere questa ventola e portare in cellula un po' di calore sì non è tanto insomma è un aiutino diciamo per il riscaldatore per il riscaldamento a gas però insomma sicuramente tra averlo e non averlo evviva ultima parte ovviamente il mio regno no il bagno allora ecco qua il bagno ecco qua vi faccio vedere così qui abbiamo la doccia il wc il lavandino il vino allo specchio ecco qui anche qui è stata installata una ventola che permette di portare fuori gli odori come vedete insomma le condizioni generali di questo camper sono veramente incredibili insomma se pensiamo che appunto è stato costruito nel 2000 ultima cosa per quanto riguarda le dotazioni abbiamo anche le le sospensioni ad aria vi faccio vedere dalla cabina allora eccoci qua dalla cabina qui vedete praticamente adesso sono ovviamente sgonfie abbiamo la possibilità di gonfiare le sospensioni ad aria c'è un piccolo compressorino e tramite quello io posso andare a gonfiare le sospensioni qua ecco qui questo è il nino questo è un camper tour un po' ovviamente come è venuto non lo so adesso vado a prendere la moquette e montiamo e montiamola e montiamo e mettiamo giù la moquette io spero di potermi ricominciare a muovere in una quindicina di giorni e andare un po' in montagna e quindi poi magari andare a fare qualche camminatina anche sulla neve e portarvi qualche altro video interessante insomma qualcos'altro ecco allora io su queste parole vi lascio no vi lascio nessuno vado a prendere la moquette fa un freddo ho i piedi ghiacciati vado a prendere la moquette e poi ci rivediamo fra un attimo ok bye bye ed ecco qua montata montata messa giù la moquette devo dire la verità che è veramente una ottima una ottima soluzione poi con un altro paio di tappeti messi sopra si sta direi assolutamente più che bene allora direi che anche per questo video è tutto speriamo di rivederci presto con un nuovo video in viaggio se avete come sempre qualche domanda fatemi sapere sono qua cos'altro posso dire anzi il nino c'è anche l'allarme ma in realtà praticamente non se non lo uso quasi mai l'allarme anzi non lo uso quasi mai per quanto riguarda la sicurezza magari ultimissimo argomento come avete visto io ho la chiusura qui esterna della fiamma che quindi dà una sicurezza direi per quanto riguarda la cellula più che buona per quanto riguarda le cabine invece ho fatto installare quando ho acquistato il camper vi faccio vedere ho installato praticamente questi gancetti che quindi bloccano l'apertura della porta effettivamente provando ad aprire il camper da fuori con i gancetti inseriti insomma bisogna proprio sfondare via tutto quindi insomma spero che se siamo dentro di accorgerci e se siamo fuori sarà quel che sarà bene signore e signori grazie per aver visto anche questo video dal freddoloso nord-est adesso ci sono sei gradi e mezzo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video click qui passano eh qual è un disastro bene a ah